Otto giorni che non si hanno più notizie di lei e ora gli inquirenti hanno deciso di diffondere la sua foto. Si chiama Mariangela Faustine e nell'ultimo anno ha vissuto a Tavenna con il compagno Giuseppe. L'uomo, il 31 ottobre, è stato nella caserma dei carabinieri di Palata per denunciarne la scomparsa. È andata via domenica 28 ottobre, ha raccontato ai militari, spiegando i particolari dell'ultima volta che l'ha vista. Mi ha detto vado un po' al computer, io stavo guardando un programma in televisione, ha riferito il 56enne ai carabinieri. Dopo un po' è andato a cercarla, ma vicino al PC non c'era nessuno. L'uomo ha pensato che fosse uscita per un servizio, ma a casa Mariangela non è tornata. Pochi giorni prima era stato il suo 49esimo compleanno, ma probabilmente non c'è stato molto da festeggiare. Da mesi entrambi erano senza lavoro e a stento, riuscivano ad andare avanti. Erano arrivati in paese da un po' dopo aver trascorso prima un periodo a Palata. Ma Mariangela per tanti anni ha vissuto a Tiarno di Sotto, in provincia di Trento, dove ha lasciato un marito e quattro figli per seguire Giuseppe, il suo nuovo compagno. Ma la nuova relazione non è stata facile senza un lavoro e con tante difficoltà economiche. Quando è uscita indossava una tuta bianca, un giubbotto nero e scarpe da tennis. È alta un metro e 61, ha i capelli biondi e gli occhi castani. Ha con sé una patente scaduta e due telefoni cellulari senza carta SIM. In paese qualcuno l'ha vista camminare a piedi con due borse, proprio domenica 28 ottobre. Ma a casa, ha spiegato Giuseppe Carabinieri, i vestiti non mancano. Potrebbe essersi allontanata dunque spontaneamente, ma intanto il compagno è preoccupato. I Carabinieri hanno avviato le ricerche, anche perché la donna sembra svanita nel nulla. Nessuna telefonata, nessun contatto, nemmeno con la famiglia a Trento. Ed è proprio dal computer che usava e da Facebook, da cui si è cancellata poco prima della scomparsa, che i Carabinieri ora ripartono con le indagini nel tentativo di trovarla. Potrebbe essersi dato appuntamento con qualcuno, ha suggerito il compagno.